in queste pagine che sono andato riempiendo riconosco una voce fredda e invulnerabile come quelle dei pessimisti che allo stesso modo in cui non vedono nessuna ragione per vivere così non ne vedono neppure una per uccidersi o morire nessuna per temere nessuna per aspettare nessuna per pensare e tuttavia non fanno altro che queste ultime tre cose temere aspettare pensare pensare incessantemente la mia testa era così fredda e invulnerabile temevo e aspettavo e pensavo durante le prove nelle camere degli alberghi nelle mie passeggiate per la città nei treni e nei pochi aerei che mi trasportavano nelle hall e nei bar mentre leggevo partiture e studiavo carte anche a volte durante le rappresentazioni ricordo di aver pensato intensamente a verta e a me e a come non la massi durante tutta una rappresentazione di turandò a cleveland compresi i momenti in cui intervenivo e cantavo con la mia voce inconfondibile pensavo tanto che giunsi a fare delle mie scarse conversazioni soprattutto con verta ma anche con altri un puro e semplice prolungamento verbale del mio pensiero da solo pensavo tanto allora e finì per essere stufo di me stesso era oltretutto un pensiero irriflessivo non guidato fluttuante senza meta né punto di partenza insopportabile ed era già da qualche tempo che mi risultava del tutto insopportabile e questo non è soltanto un tratto qualunque ma quello che caratterizza principalmente i pessimisti non sopportare quel che è irrimediabile o addirittura quel che è l'unica cosa possibile